Ciao a tutti e benvenuti. All'interno di questo video andremo a trattare della trascrizione. Con il termine trascrizione si intende il meccanismo cellulare e molecolare grazie al quale avviene il passaggio di informazione genetica dal DNA all'RNA. Nel caso degli eucarioti aventi un genoma e di conseguenza un numero di geni molto più vasto rispetto a quello dei procarioti, il processo trascrizionale risulta essere indubbiamente più articolato, in quanto necessita di un sistema di regolazione che agisce in diversi punti durante tutta la durata del meccanismo. Il cambiamento tra i due acidi nucleici porta con sé delle differenze strutturali, primo tra tutti quello a cui si devono i due nomi, ovvero la struttura dello zucchero del nucleotide. Per l'RNA lo zucchero è il ribosio, mentre per il DNA era il deossiribosio. Un'altra differenza sta nell'uracile, una pirimidina molto simile alla timina, che nell'impalcatura dell'RNA va a prendere il suo posto accoppiandosi esclusivamente con l'adenina. Tolte queste due incongruenze strutturali a livello dei nucleotidi, le porzioni rimanenti rimangono le stesse. Ovviamente, in questo caso, abbiamo citato soltanto le differenze principali tra i due acidi nucleici, ma sono anche quelle fondamentali per capire il funzionamento dei processi di modificazione degli stessi. La sequenza nucleotidica di DNA che va incontro alla trascrizione riguarda soltanto quella porzione di DNA che codifica per proteine necessarie in un determinato momento. Questo processo, probabilmente determinato da un'interazione evoluzionistica, vede quindi le informazioni contenute nel DNA trascritte in un RNA messaggero o mRNA. Il processo di trascrizione è diviso in tre fasi principali, che sono ben distinte, l'inizio, l'allungamento e la terminazione. La famiglia di enzimi più importante è quella delle RNA polimerasi, enzimi DNA dipendenti, in quanto hanno bisogno di un filamento di DNA per espletare il loro ruolo. Queste sono composte da diverse subunità proteiche, che hanno il ruolo di sintetizzare il neofilamento di RNA complementare al filamento di DNA designato per la trascrizione. Per quanto riguarda gli organismi eucariotici, sono state identificate tre diverse RNA polimerasi, ognuna delle quali è responsabile della trascrizione di specifici geni. L'RNA polimerasi 1, situata nel nucleolo, trascrive i geni degli RNA ribosomiali. L'RNA polimerasi 2, situata nel nucleoplasma, ovvero la porzione di nucleo non contenente il nucleolo, trascrive per la maggioranza dei geni strutturali, quindi mRNA, mRNA, CRNA e alcuni small nuclear e small nuclear RNA, mentre l'RNA polimerasi 3 si occupa della trascrizione dei geni dei tRNA. L'importanza della presenza di tre RNA polimerasi distinte è giustificata quindi dalla complessità del genome eucariotico. I nucleosidi trifosfati vengono privati di due gruppi fosfato, così da permettere la genesi di un legame covalente tra nucleotidi successivi. Durante le fasi di inizio è fondamentale l'assemblaggio di una struttura, non trascritta, chiamata promotore, ossia una determinata sequenza di DNA che andrà a legarsi alla RNA polimerasi. I promotori sono quindi elementi essenziali per la trascrizione e svolgono tre funzioni basilari. identificano il sito di inizio della trascrizione, individuano quale dei due filamenti di DNA deve essere trascritto e in quale direzione indirizzare il processo. Il promotore è formato da due regioni, la sequenza di riconoscimento e la TataBox. La sequenza di riconoscimento rappresenta il sito di legame all'RNA polimerasi. La TataBox invece è quella sequenza con senso di DNA individuabile a monte di molti geni, circa 25-30 nucleotidi di distanza dall'inizio della trascrizione e in cui la doppia elica inizia ad aprirsi per dare inizio alla trascrizione. La TataBox è così chiamata a causa dell'elevata densità di coppie AT. Queste facilitano l'apertura dell'elica in quanto, avendo soltanto due legami idrogeno, risultano più facili da separare. Negli eucarioti l'attacco del promotore all'RNA polimerasi, avviene solamente dopo il posizionamento di determinate strutture proteiche, che sono i fattori di trascrizione. Il primo di questi è il TBP, ovvero il TataBox binding protein, il quale andrà a legarsi al TataBox, inducendo un cambiamento conformazionale nel DNA. Successivamente tutti gli altri fattori di trascrizione dell'RNA polimerasi 2, ovvero TF2B, TF2D, TF2E, TF2F e TF2H, interagiranno con il promotore, formando il complesso di trascrizione. TF2D è un complesso proteico di dimensioni ragguardevoli, composto da 12 subunità, tra cui TBP, ed è di conseguenza il primo a prendere posizione nella trascrizione. Come precedentemente accennato, il TBP e la TataBox sono spesso legati ad altri fattori di trascrizione, dando alla luce un complesso proteico, chiamato complesso di inizio preliminare. È il momento dell'attacco di TF2F, al quale è associata l'RNA polimerasi 2, che interagirà con il TBP. Questo porterà all'attacco di TF2E e TF2H e, in particolare, TF2H avrà funzioni elicasiche e chinasiche sulla RNA polimerasi 2, la quale, una volta fosforilata da TF2H, viene attivata e inizia quindi a sintetizzare il filamento di RNA. Queste reazioni iniziali non sono velocissime, in quanto tra l'RNA polimerasi e gli altri fattori di trascrizione, le interazioni chimiche sono ancora molto forti. In seguito al completamento del complesso di trascrizione, l'RNA polimerasi corrispondente si lega alla sequenza di riconoscimento e la trascrizione ha finalmente inizio. La doppia elica del DNA va incontro ad apertura. L'RNA polimerasi inizia a scorrere lungo il filamento, in direzione 3'5' del filamento stampo, andando a sintetizzare un filamento di RNA complementare e antiparallelo a quello di DNA, in direzione 5'3', esattamente come avviene per la duplicazione del DNA. Nucleotide dopo nucleotide, il primo di questi mantiene tutti e tre i gruppi fosfato, mentre i successivi soltanto uno. A questo punto siamo a tutti gli effetti nel pieno della fase di allungamento. La sintesi del neofilamento di RNA è il risultato di una serie di polimerizzazioni all'equilibrio, reversibili e spontanee. In questo caso la diminuzione del pirofosfato spinge la reazione verso destra, secondo il principio di Le Chatelier dell'equilibrio mobile. La fase di terminazione è innescata, nella maggior parte dei casi, nel momento in cui l'RNA polimerasi identifica sul filamento di DNA delle particolari sequenze di basi chiamate terminatori. Tutto il materiale genetico tra il sito di inizio della trascrizione e il sito di terminazione è identificato con il nome di unità di trascrizione. Da questa verrà fuori il primo trascritto di RNA, chiamato trascritto primario. La fine del processo di trascrizione è organizzata in relazione ai meccanismi di maturazione post-trascrizionali delle mRNA. Gran parte dei trascritti primari eucariotici, ad eccezione degli istoni, hanno bisogno di riorganizzazioni atte a maturare il neofilamento. Queste, oltre a conferire la stabilità alla molecola, gli permettono di potersi legare i ribosomi per andare incontro al processo di traduzione e determinano l'allontanamento dell'RNA polimerasi 2 dal filamento stampo di DNA e, di conseguenza, sanciscono la fine del processo trascrizionale. Le modificazioni più significative degli eucarioti prevedono l'aggiunta di un CAP all'estremità 5' e di una poliadenilazione al 3'. Questo avviene solo per quanto riguarda gli mRNA trascritti da RNA polimerasi 2. Un esempio curioso che vale la pena accennare è quello del particolare meccanismo di retrotrascrizione, anche chiamata trascrizione inversa, che vede protagonista l'enzima chiamato trascrittasi inversa, che permette la sintesi di un filamento di DNA da uno di RNA, andando contro al dogma centrale della biologia molecolare, secondo il quale il passaggio dell'informazione avviene nell'ordine da DNA a RNA alle proteine. Questo è un elemento caratteristico di alcuni virus a RNA, come ad esempio quello dell'HIV, capace di replicarsi solo nel caso in cui tutto il loro materiale genetico venga retrotrascritto da RNA a DNA. Detto questo, abbiamo concluso il capitolo riguardo la trascrizione. Ti consiglio di iscriverti per non perderti i prossimi video e di lasciare un like o un commento per farci sapere se questo video ti è stato d'aiuto. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a presto!